Torna a splendere il sole sugli agriturismi italiani. È questo il segnale che arriva da Rezzo Fiere, dove si è svolta la quindicesima edizione di Agrientour, il salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale, dove si è registrata una crescita della domanda di vacanza in campagna. Dall'incontro con più di 100 buyers provenienti da oltre 10 paesi, un workshop sul B2B da cui è emerso come l'offerta agrituristica italiana abbia tutte le carte in regola per imporsi come punto di attrazione turistica. In particolare è emerso che il concetto di ricettività non si ferma solo al pernottamento, ma si lega all'enogastronomia, all'arte e alla cultura del territorio che viene visitato dal turista. Successo per la fiera anche in termini di visitatori con più di 10.000 persone che hanno scelto Agrientour nei tre giorni per conoscere così il mondo rurale e fare acquisti a chilometro zero. È un evento, dice Andrea Boldi, presidente di Arezzo Fiere, che ha visto crescere la propria importanza nel settore grazie soprattutto alla qualità dei contenuti offerti in tre giorni agli espositori, agli operatori e agli addetti di un settore che continua a crescere. Agrientour rappresenta una grande opportunità anche per la città di Arezzo, continua Andrea Boldi, perché la manifestazione offre la possibilità di conoscere e toccare con mano la realtà dell'agricoltura e avere un rapporto diretto con il mondo agricolo. Grazie.